Buongiorno e benvenuti a questa edizione straordinaria del TG. Le rivelazioni della doppiatrice Emanuela Pacotto hanno scatenato il panico fra i numerosissimi fan di One Piece e notizie contraddittorie rimbalzano da una parte all'altra del web. Ma colleghiamoci subito con la nostra inviata per gli ultimi aggiornamenti. Sì, come hai appena detto il video pubblicato su Youtube da Emanuela Pacotto ha suscitato grandissimo clamore. Noi siamo qui davanti ai Vanguard Studios dove Emanuela lavora e speravamo di avere un chiarimento dalla diretta interessata, ma abbiamo appena appreso che da due giorni di lei non sia più alcuna notizia. Scusa ti devo interrompere, riprendiamo la linea dallo studio perché mi hanno appena comunicato dalla regia che è arrivato in redazione un nuovo video che potrebbe essere stato mandato dalla nota doppiatrice. Non ne conosciamo ancora il contenuto ma se la regia è pronta lo guardiamo insieme. Io ve l'avevo detto di non dirlo a nessuno, adesso lo sanno tutti e mi stanno cercando, mi vogliono prendere. Io ho fatto quelle rivelazioni solo per rispondere a tutti i vostri messaggi, post, mail che mi mandate ogni giorno. Le puntate di One Piece sono 54, comprese quelle che stanno già andando in onda. Ed è arrivato anche il film One Piece Z, ma non l'abbiamo ancora doppiato. E riguardo a Strong World invece, mi hanno trovato, mi hanno trovato, mi hanno trovato, devo scappare, devo scappare, devo scappare. E con questo scoop si conclude questa edizione straordinaria. Per ora è tutto e non scordatevi di iscrivervi al canale per ricevere tutti gli aggiornamenti. Arrivederci. Arrivederci.